Ma da allenatore sicuramente, da calciatore ne ho vissute tante così purtroppo, perché ho girato in tutta Italia ed è una situazione che in Laga Pro succede, succede purtroppo. E' chiaro che queste due settimane qua sono state un po' pesantine dal punto di vista proprio della gestione, però c'è sempre uno spiraglio, sempre una luce in fondo. Si vede una luce, continuiamo a andare fiduciosi verso questa luce, speranza che si risolva dapprima il discorso societario e di conseguenza poi tutto il resto viene, una volta che si standardizza quello diventa fra virgolette più facile ricominciare a lavorare. Sicuramente, è difficile sicuramente, prima per l'avversario perché è un avversario importante e poi anche noi per tutta questa serie di situazioni. Non è un interruttore che si accende e si spegne così facilmente, è un lavoro, c'è un lavoro dietro che devi fare ogni giorno. E quindi è chiaro che domani è una prova difficile, mi aspetta una gara difficile, però allo stesso tempo sono fiducioso, nel senso che una volta che i ragazzi scendono in campo è chiaro che devono dare qualcosa in più. Non basta solo scendere per onore di firma, è questo che chiedo a loro e soprattutto ho chiesto grande sincerità con me, abbiamo sempre avuto un rapporto molto franco, molto sincero, molto diretto. Io ho espresso il mio pensiero all'inizio della settimana, loro mi hanno detto il loro e io ho chiesto soprattutto di essere sinceri con me nel dirmi chi si sente veramente in grado di scendere in campo per dare il 110%. Mi aspetto una squadra molto forte, gioca molto bene al calcio, è conscia delle proprie possibilità, è una squadra molto serena, si vede, hanno una loro struttura, hanno una continuità tecnica ormai più che decennale. Tutto questo determina serenità, oltre che giocatori molto bravi. È ovvio che hanno una situazione totalmente diversa dalla nostra, però noi in queste situazioni qua abbiamo sempre tirato fuori il meglio. Domani sarà sicuramente una gara difficile, ma mi auguro di andare a scavare qualcosa dentro i miei ragazzi che sia qualcosa di straordinario, perché per noi far punti domani sarebbe veramente un'altra piccola impresa da mettere vicino e ricominciare da quello che dovremo andare incontro, perché sarà un nuovo campionato per noi.